Nell'area verde di Cannella di Senigallia si è svolto il campionato nazionale di ciclocross Wisp, organizzato dal gruppo sportivo locale. Un tracciato molto tecnico, un percorso di un paio di chilometri, la porzione maggiore in terreno battuto e circa 200 metri in asfalto. Tre le partenze a seconda della categoria, per gare che hanno messo alla prova le ruote di 112 partecipanti, donne e uomini, provenienti da tutta Italia. Due le vittorie marchigiane, entrambe per la stessa società, la polisportiva belmontese. Quella di Mirella Victoria Nemes nella categoria donne e quella di Giulio Conti nella categoria Master 5.